ciao ragazzi bentornati su hard rock crypto in questo video chiaramente commenteremo il risultato elettorale americano e analizzeremo appunto cosa portare a casa da questo risultato e soprattutto cosa aspettarci sul mercato nei prossimi mesi ovviamente sono super gasato e super bullish ma dobbiamo essere molto attenti a non commettere errori che potremo pagare molto cari prima andare avanti ragazzi che un fantastico like che per noi è fondamentale di iscrivervi al canale se ancora non avete fatto di attivare la campanellina per rimanere sempre aggiornati come sempre qua sotto in descrizione trovate i timestamp per saltare la parte di video che vi interessa di più seguiteci sui social mi raccomando su x ed eccoci qua ragazzi il risultato americano delle elezioni è stato devastante è stata una vittoria clamorosa non stata una vittoria assolutamente nettissima e purtroppo anch'io avevo dei dubbi sull'entità sulla diciamo sulla facilità con cui in realtà trump ha vinto queste elezioni che non sono mai state in discussione per via dei media i media tradizionali sono morti letteralmente ieri non contano assolutamente più nulla non sono rilevanti viviamo appunto in un mondo in cui purtroppo c'è solo una piattaforma in cui è possibile parlare liberamente esprimere le proprie opinioni e soprattutto tirar fuori fatti e non opinioni soprattutto su questioni importanti come le elezioni appunto x l'unica piattaforma dove è possibile parlare abbastanza liberamente direi e appunto le elezioni su x c'era una percezione molto netta su chi doveva vincere e in realtà i media tradizionali soprattutto americani che ultimamente sono senza vergogna abbiamo visto delle cose assurde non voglio parlare di politica troppo a lungo ragazzi similitudini tra quello che è un raduno di trump e i raduni nazisti e cose assurde di questo tipo cose completamente senza senso anche perché è già stato presidente e non mi sembra che abbiamo avuto diciamo un governo simile a quello dei nazisti appunto nel precedente mandato di trump questa non voglio esprimermi sulla politica non voglio nemmeno nascondermi sono assolutamente gasato per la vittoria di trump soprattutto per il mercato perché il mercato è la cosa più importante per me personalmente per me per la mia famiglia anche perché il mercato va molto bene automaticamente facciamo tanti soldi e possiamo prendere decisioni migliori per noi stessi per la nostra famiglia per i nostri amici mi sembra molto molto semplice se andiamo in bear market se le condizioni economiche fanno schifo automaticamente il risultato economico i nostri trade eccetera vanno male e quindi questo non è assolutamente positivo i soldi che piaccia o meno impattano qualsiasi aspetto della vita per cui questo è molto molto semplice qua parliamo soprattutto di mercati di speculazione speculazione il principale scopo delle cripto valute e che piaccia o meno anche qua le narrative sono sempre le stesse oggi però oltre a trump che ha vinto e andiamo a vedere qualche tweet ragazzi sulla situazione su quello che avverrà prossimamente in questi mesi vedete qua il primo cripto presidente il primo bitcoin president chiaro che la vittoria di trump porta solo benefici al mondo cripto queste sono le promesse di donald trump che aveva fatto a bitcoin nashville la scorsa estate a luglio prima cosa ovviamente positiva per tutti i mercati licenziare gary gensler questa mattina ho visto su cnbc sostanzialmente ci stavano già festeggiando che il fatto che gary gensler se ne andrà il prima possibile che il che è positivo per qualsiasi tipo di mercato e quindi questa è una certezza si sta già parlando di chi sarà il suo successore si parla di ester pierce a cripto mamma come viene soprannominata ma si vedrà e non bisogna esaltarsi in anticipo anche gensler l'ha visto positivamente poi si è rivelato terribile poi una riserva di valore per di bitcoin per il governo americano che non venderà quegli requisiti sono circa 15 miliardi di dollari stamattina si parlava già su cnbc di questa riserva del governo americano e sostanzialmente se si mette in piedi questa riserva di bitcoin come tipo loro per il governo americano sicuramente questo scatenerebbe una teoria dei giochi in cui altre nazioni inizierebbero a accumulare bitcoin come loro quindi questo potrebbe fare decisamente esplodere il prezzo se ne parla ancora questo un video di pochi minuti fa e ragazzi è chiaro un presidente totalmente a favore di bitcoin abbiamo quante ne volete di notizie positive che non vedrete assolutamente sui media tradizionali perché sono tutti di parte e sostanzialmente corrotti avremo al congresso degli stati uniti abbiamo 260 candidati assolutamente pro cripto e hanno vinto anche il senato quindi avremo una maggioranza con trump da tutte le parti quindi potere assoluto a trump questo non sempre positivo non lo so cosa può succedere non sono un esperto di politica non sono americano non vivo lì eccetera so solo che per il punto di vista del mercato e delle cripto per me va bene ho già detto prima e altre cose importanti vabbè bitcoin capitale stati uniti capitale mondiale del bitcoin il mining che verrà spinto alla grande e già oggi sul nasdaq le società di mining sono esplose marathon adesso mi ricordo le altre ce ne sono tre che sono andate alla grande in doppia cifra come guadagni anche coinbase cambiamento del aspetto della regolamentazione che sappiamo essere da sesto mondo in america grazie a gary gensler e finalmente il tutto cambierà addirittura si vocifera di mettere le tasse al 0 per cento su bitcoin ne ha parlato scherzosamente una due settimane fa il buon donald consiglio cripto di advisor tra 100 giorni il diritto al self custody e nessuna cbdc il che è fantastico quindi se solo un quarto di queste cose viene mantenuta dal buon donald trump capite che i prezzi che abbiamo adesso sono assolutamente ridicoli ma non c'è tanto tempo giustamente questa sera il fomc ed è chiaro ci si aspetta un taglio del 0 25 di 25 punti base dei tassi di interesse questo è assolutamente prezzato 97 per cento soprattutto quello che interessa perché il taglio di 25 punti base è ormai ovvio scontato potrebbe esserci al sorpresa 0 5 ma è molto poco probabile non impossibile ma poco probabile se taglia di 0 5 i mercati esplodono letteralmente ragazzi allacciamo le cinture di sicurezza ma è molto poco probabile 2 per cento cosa può succedere che la cosa più importante di questi eventi delle fomc è la conferenza stampa che avviene subito dopo il discorso di geroon powell e powell potrebbe diciamo iniziare a dire che sostanzialmente il governo torna a comprare asset il che potrebbe pompare sicuramente l'economia vedremo se sarà ci sarà un annuncio di questo tipo e il prossimo fomc è il 18 di dicembre l'ultimo dell'anno quindi questo è il periodo più bullish in assoluto del quadriennio del ciclo cripto di tutto quello che vogliamo prima di andare avanti ragazzi voglio parlarvi di zumex un fantastico exchange senza kyc quindi l'ideale soprattutto in italia se non volete problemi di privacy documenti e quant'altro zumex è perfetto troverete tutte le vostre calcoin preferite e potrete fare trading in leva proprio per gli amici trader c'è un concorso fantastico per la nostra community di erdo cripto cliccate qua sul logo troverete il link qua sotto in descrizione quando vi arrivate qua sulla pagina di descrizione cliccando sul logo vi si apre il regolamento di questo concorso quindi se siete trader in leva potrete vincere fino a 24.699 usdt e un iphone 16 pro max queste sono le regole del concorso c'è ancora tempo fino al 17 novembre dovete depositarle almeno 100 usdt nella sezione asset e poi spostarli in contract che è appunto la sezione dedicata al trading in leva deve fare trading su tutto tranne che su bitcoin ethereum e xrp che non verranno conteggiati andando dal reward hub potrete andare a richiedere il 20 per cento sulle commissioni di trading è fantastico se volete approfittare di questo bull market penso che possa interessare uno sconto sulle fees e questo qua ragazzi è la tabella in base a quanto volume fate avete una ricompensa in usdt l'offerta è limitata a un certo numero di partecipanti qui approfittatene assolutamente si parte a partire da soli 25 mila dollari di volumi e quindi 50 usdt fino ad arrivare a un iphone 16 pro e un pro max quindi fantastico ce n'è per tutti ovviamente per trader esperti quindi approfittate di questa promozione troverete i link in descrizione ringraziamo gli amici di zumex quindi ragazzi scherzi a parte tantissimi meme che troverete su x ilon masche bullis come un pazzo estremamente esaltante avere uno come ilon che va al governo di un dipartimento chiamato doge per rendere efficiente il governo è venuta fuori questa meme mentre pensavo a ilon ormai una meme famosa ragazzi andatela a vedere questo qua sta praticamente facendo piazza pulito a dei propri ministri in un paese sudamericano mi sembra l'argentina non voglio dire cavolate comunque un meme ormai famoso ilon è stato chiamato proprio per quel motivo per cacciare via la gente per risparmiare sul deficit eccetera con la sua efficienza del governo è chiaro che doge è una scommessa in leva sul governo trump su ilon e tra e chiaramente ilon non farà pubblicità diretta ad oggi anche se si può dire che l'ha già fatto ma ancora i retail le nuove persone non ci sono ancora sul mercato nessuno è interessato a bitcoin per ora ragazzi stiamo molto attenti quindi aspetterà il momento di massimo hype per fare una diciamo spingere dodge alla grande ed è abbastanza ovvio tutti se lo aspettano e ilon musk non ha mai deluso da questo punto di vista soprattutto poi per il nome che ha dato a questo dipartimento quindi non credo che deluderà ci sarà un'integrazione su x probabile quando arriverà sarà probabilmente il top quando ilon musk renderà palese la cosa ci saranno tutti ci sarà un hype estremo ci saranno anche i media tradizionali a parlare di bitcoin hanno già cominciato da ieri su cnbc chiaramente qua in italia arriveremo per ultimi un mese dopo quindi state molto attenti per quanto riguarda le informazioni da seguire ovviamente x non avete altre informazioni decenti e quindi stiamo attenti per quanto mi riguarda quando arriva il on mask al massimo del live a pubblicizzare dodge quello è il top o magari il giorno dopo due giorni dopo una settimana dopo se siamo fortunati un po come nel 2021 quando è apparso in tv sul saturday night live a parlare di doge quello ha rappresentato il top di quel bull market poi tutto è crollato abbiamo avuto il doppio top tutte queste cose qui ma diciamo che nell'estate del 2021 ai cripto investitori non se la passavano bene nessuno poteva aspettarsi il secondo top e cose di questo tipo quindi mi raccomando abbiamo davanti al massimo un anno di bull market secondo me probabilmente meno non lo so potrebbe finire anche addirittura nel q1 q2 nel 2025 bisogna essere molto attenti non commettiamo errori nel momento più bello siamo ancora in tempo per posizionarci sicuramente tante al coin sono ancora disponibili sono cetus ma ragazzi non entriamo in fumo non compriamo queste cose qui che ci distruggiamo abbiamo miliardi di al coin e dobbiamo aspettare i ritracciamenti e livelli interessanti bitcoin non ne ho parlato fino adesso ovviamente è in all time i e in price discovery si sta molto bene da questo punto di vista ha toccato i 76 mila dollari e passa ora probabilmente consoliderà per qualche giorno per poi spingere ulteriormente non sappiamo può succedere di tutto possiamo tranquillamente andare a ritestare i 72 mila eccetera a fare un altro air low e quindi possiamo scendere tranquillamente dobbiamo approfittare di quei momenti per comprare non comprare nei momenti in cui tutti sono esaltati vedete oggi ad esempio è chiaro che le narrative sono sempre le stesse quindi le meme coin e le i layer one fondamentali che sono pochi sembrerebbe che tiro stia dando segni di vita e teoricamente tiro sta cercando di breccare in questo momento non sono ancora esattamente estremamente bullish su etilium non mi basta aspetto qualche chiusura giornaliera in più per quanto mi riguarda ho già degli etilium in portafoglio non è che posso fingere che etilium sia una figata estrema solo perché ce l'ho in portafoglio bisogna essere obiettivi e non sposare le proprie bag non commettiamo errori quelli sono alcuni consigli per cavalcare questa vulgar niente fomo quando tutti sono gasati tipo ieri consideriamo di vendere qualcosa cosa che ho fatto che nel scorso bull market non faceva ad esempio e per avere poi i soldini per comprare nei giorni in cui tutto è terribile e tutti stanno morendo cose come rei non si possono toccare ragazzi facciamo le cose semplici quindi solana etilium quanto mi riguarda no se non ce l'avete fate fate voi ragazzi solana bitcoin naturalmente si può ancora comprare sotto i 100k sir one fondamentale lei ai che chiaramente spingerà tau le solite ragazzi tau vedete che non ha ancora fatto il breakout sul giornaliero phantom interessante penso che anche phantom dirà la sua con andrea cronie la defai che tornerà protagonista con trump che ha un progetto defai lui stai spesso che non ho studiato assolutamente ma comunque la defai avrà il suo momento quindi anche defai 1.0 abbiamo parlato anche ieri in live le cose semplici sugli ecosistemi che vi piacciono tipo solana chiaramente i dex jupiter radium stanno andando alla grande in questo ultimamente radium non si ferma più ottimo e intelligenza artificiale qui classici ragazzi render che da un bel po di tempo non sta facendo granché sta lateralizzando quindi si prepara a partire io credo molto anche la narrativa depin grass ultimamente sta andando alla grande e itir sempre fermo ci sarà il suo momento da comprare le cose quando non sono calde sta uscendo la narrativa degli agenti ai discorso che dobbiamo affrontare in un video separato abbiamo spectra abbiamo ios fetch tutte queste sono le classiche coin ai trovate le vostre preferite e la terza narrativa un po meno calda è quella di real world asset con mantra con ondo e altre coin anche qui dobbiamo approfondire in un altro video quella cosa principale non entrare in fomo non lasciare tutte le nostre coin sugli exchange utilizziamo hardware wallet non mettiamo i profitti in piattaforme di interessi in protocolli defai folli cose di questo tipo non bruciamoci da soli non facciamo ci scammare con link assurdi su telegram qua sotto nei commenti cose di questo tipo ma sono sicuro che tutti quelli che stanno guardando questo video in questo momento non fanno queste cose queste sono rapidamente le cose che ci possono distruggere e prendiamo profitto anche quando non ne abbiamo voglia ragazzi questo è fondamentale e quando arriva il momento in cui state facendo vedere quanto siete bravi come tradere quanto avete guadagnato e state cerando con gli amici i vostri risultati il vostro pnl dal vostro exchange preferito prima di farlo prendete un po di profitti ragazzi questo è quanto penso che avremo un bull market devastante questa sera fomc fondamentale alle vediamo un po le otto di sera conferenza di jaron powell alle otto e mezza quindi fra le otto nove di sera quindi guardiamo l'fmc prima di cercare cosa c'è su netflix e da dall'fmc può arrivare qualche indicazione proprio per spingere alla grande verso il natale ce l'abbiamo fatta ragazzi ce l'abbiamo fatta non roviniamo tutto adesso siamo ancora in tempo non ci sono ancora i retail compriamo adesso e poi possiamo essere molto rilassati in questo bull market quindi ce lo siamo meritati ci sentiremo dire poi più avanti quando saremo in profitto quando ci sarà bitcoin a non lo so 150 mila dollari che siamo stati fortunati questo è ragazzi e ne vedremo assolutamente delle belle anche delle bruttissime arriveranno dei crolli incredibili se sei appena arrivato preparati metti lo stop loss file le tue cose sappi che in un bull market può tranquillamente crollare tutto da un giorno all'altro del 30 40 per cento per liquidare chi esagera con la leva quindi se non facciamo cose di questo tipo se non ci bruciamo da soli ce la possiamo fare come sempre se avete apprezzato questo video distruggete il tasto like e noi ci rivediamo al prossimo video sempre qua su ardro cripto